E raccontiamo Eccola l'altra La vita da questa parte Bionda col cagnolino Farrucca bionda, no? Vanta di essere un'artista quella signora Altro che personaggio pubblico Perché? Film Vanta di essere un'artista Non so se dica Che si dica trans Una trans o un trans Una persona me l'aveva spiegato, non importa E L'altra volta credo voglia dire Non so, l'altra volta mi sembrava più La vidi a Porta Castello No, a Porta San Pietro con un uomo Oggi era, non so se fosse donna o trans Secondo me era donna Ma Sono stato rimproverato dalla sua amica Dicendo che non si chiede in mezzo a tutti Ma non so Non credo sia un problema Saranno semplicemente amiche Insomma, maneggiare con cura Rientriamo nel Lo faccio ma non lo dico E sapete? Cosa io pensi Lo faccio ma non lo dico La discrezione Quale privacy? Se ti prostituisci O se fai film porno Secondo me bisognerebbe essere un pizzico coerente Anche perché questa signora Appare Appare su certi siti Poi farò anche Un racconto di certi siti E poi Noleggio bike E non ricordo come si chiami Ma si chiama Dovrebbe venirmi in mente Prima o poi Vediamo se titolerò così Buona giornata Più tardi Grazie a tutti